Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a settare la mitraglietta OTS9 di Cold War per Warzone e dire di cominciare. Come prima cosa ci tengo a dire che onestamente mi sto trovando veramente, veramente bene con questa mitraglietta. L'unica pecca onestamente sono i colpi, ma per il resto ha una mobilità che onestamente le altre mitraglietta si sogna. Dire di passare al settaggio. Come prima cosa andremo a mettere il soppressore G. Come cano andremo a mettere l'ultima, la task force da 8,1. Poi mettiamo ultimo calcio, il KGB. Poi mettiamo i 40 colpi rapidi. Ed infine impugnatura la serpent. Questo è il settaggio dell'OTS. Provatelo e fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se anche a voi piace. Vi consiglio anche di associarlo in questo momento all'assalto XM4. Sotto in descrizione troverete il link con la playlist dove troverete anche il settaggio di tutte le varie armi, tra cui anche appunto l'XM4. Io vi ringrazio per aver guardato questi video. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti!